Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sulla Marsh. Abbiamo finito un campo con le balle, adesso mettiamo subito al lavoro il nostro aiutante qui sul secondo campo. Nel frattempo mi è venuta un'idea, voglio provare una cosa, l'ho già messa in funzione, l'unica cosa che adesso devo prima mettere in funzione è questo e dopo voglio andare a provare una cosa con un raccogli bolts, vediamo un po' se riesce, lo vediamo insieme, proviamo, facciamo una provola ragazzi, facciamo la provola, la provola, la provola, oh quello che campo era adesso, mi viene chiuso, è 15 o è 16, 16, ok allora 16, dove è? 16, 16, 16, 16 qua, 16, carica, ok, tu inizia at the first, thank you very much, ok allora, spostiamo un po' di roba perché è un po' di roba in mezzo ai marrones, allora tu, sei il primo che deve essere spostato, direi di darti una mossa, eccala, allora, questo è vuoto, allora sai che ti dico, tu vai a, ma perché non vai a quel palese, una volta ogni tanto mi viene raga, la cosa canterino, solo che se canto io non è che viene il diluvio universale, peggio, allora, dove ti volevo mandare, a Fanculandia non sarebbe male, vedete che arriva l'aiutante con la mia idea, vediamo se riesce, oh faccio una gran cazzata, ma secondo me è quella, ma proviamo, voglio fare una provola, vediamo se riesce, se non riesce o fa mostrano, o fa in un modo qualsiasi, comunque, vediamo, prova, 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 proviamo, provare, 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 che significa provare? Allora, vi anticipo quello che voglio fare, intanto adesso fra un paio di minuti comunque lo vedete, io voglio registrare un percorso a marce indietro con quel rimorchio lì che mi scarica le balle sul campo, vi faccio raccogliere le balle a lui e poi mi scarica le balle, ora, è vero che a un certo punto Autodrive non riconosce quando vai indietro dove hai scaricato le balle, probabilmente glieli butta addosso, ma quello è un rischio che probabilmente voglio correre, proviamo, una volta c'era questa cosa qua, non so se non l'hanno introdotta, almeno io non l'ho vista per quanto riguarda il course play, a questo punto questo il parcheggio ce l'aveva? Sì, vattene al parcheggio, tu, oh gli devo fare anche il pieno, lo facciamo dopo, tu invece fai, fai uno di questi, andiamo base, magazzino scarica, silo base, silo base, silo base, oh che palle, silo base scarica, vai qui e poi te ne vai a parcheggiare, va bene, ok, prendiamo il nostro friend, allora la mia idea è questa, vediamo se mi riesco, andiamo a registrare un percorso, io buono, che prova, questo punto forse forse, aspetta, fammi vedere una cosa, perché voglio vedere se quel punto sì, perché lui utilizza quello blu per tornare indietro, lava bene, lava bene, lava bene, ok, perfetto, ok, 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 parlo un po' da solo, ma comunque cavoli miei, voi non ascoltate quando io parlo da solo, faccio io, ok, la mia riunione internos, allora partiamo qua con un bel, uno di questi, metto un punto, tanto per, tanto mi interessa niente, facciamo, facciamo un punto provola, provola, perfetto, guarda, proprio provola l'ho chiamato, così mi va bene, allora dritto per dritto, bello dritto, non piegarti, allora, mi serve, mi va bene così, mi va bene così, allora, vado a mettere un pontino qua, è uno qui, vediamo se, occhi d'occhi, questo, aspetta, allora, io voglio che lui va indietro, ma secondo me l'ho fatto troppo lungo, troppo lungo, perché lui, adesso potevo tirarlo via, e questo lo metto qua, questo lo metto qua, e questo lo metto qua, poi vado indietro un altro pelo, tiro via questo, cacchio è questo, questo lo collego qua, e questo lo collego qua, così lui va avanti, lo collego da qui, perfetto, sì, perché non è che voglio che faccia 200 km ogni volta per collegarsi, eh, allora questo lo stacco, così, questo attacca qua, così lui va avanti, poi va indietro, carica qui, e da qui torno qua, facile, abbiamo fatto facile, 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 ok, allora, il suo percorso è campo 16b, campo 16b, sì, perché deve essere sul campo, perché altrimenti Curseplay non lo riconosce, campo 16b, ok, vai a scaricare a Provola, proprio Provola, l'ho chiamato Provola, 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 dov'è, Provola, e qui nada de nada, perché non me ne ho fotte nada, ok, questo posso anche attivarlo, ma non mi interessa, adesso attivo direttamente questo, vediamo, se funziona, magari qualcuno gli piace l'idea, cosa fai, vuoi sapere per forza il campo, eh, balle rimanenti, e allora, avvolci balle, va bene, va bene, va bene, balle rimanenti, compensazione raccolta e balle 1,5, sì, va bene, cos'è, il veicolo è troppo lontano dal campo, che cacchio dici, posizione nel campo, qui, ok, ok, vediamo, adesso sì, oh, vediamo se, allora non dovrebbe funzionare, a un certo punto, secondo me, se li mette sotto le balle che ha, li parcheggiate, ma, non è un nostro problema, tanto l'importante è che me li mette lì, tu perché non lavori? Il resto, me ne frega, non è che, ho un aiutato sul campo 41, che dovrebbe essere quasi alla fine, e dov'è, è andato a scaricare? Non sei, probabilmente sì, ok, allora, io dovessi, avesse, forse, dovessi, potessi, ma che che è? Che stai facendo tu? Ah, ci vuole trattore grande qui, questo qua ce la fa malapena, ma allora, quella è arrivata, questa è arrivata, allora facciamo, facciamo, famolo strano, ci vuole trattore grande lì, che poverino, non ce la fa, la facciamo a lavarli, allora qua, uh, no, non ce la facciamo, dentro il lavaggio non ce la può, non ce la può, allora, facciamolo così, questo è un parcheggio, dovrebbe averlo, adesso non mi ricordo qual è, è il 3, allora, 1, 2, 3, che è questo, probabilmente più avanti mi servirà di nuovo, devo comprare un altro trattore di questi, ok, tu te ne vai, e te ne vai al biogas, al biogas c'è anche, non mi ricordo se ho registrato il punto dell'officina, ma comunque adesso famolo così, dov'è? biogas, bio, 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 io impianto biogas, ingresso, vai lì, ok, così cambiamo il trattore che c'è lì, che è quello, questo è un po' più potente, tu, che cacchio, perché? Ah, c'è quello lì, ah, perché quello è bloccato, eh, ma ascolto la musica nel frattempo, si sente? ok, allora, spostiamo questo, quasi quasi, famo, famo pure una cosa, una di queste, così loro scaricano, scaricano, allora, se non mi sono sbagliato con i giorni, dovrebbe essere uscito lunedì, no, domenica, lunedì, forse ieri, adesso non voglio dire una cavolata di quando ho registrato il percorso, è venuto fuori, ho tirato fuori un tutorial per quanto riguarda registrare i percorsi autodrive, e probabilmente ve l'ho detto, state attento quando ho registrato i percorsi, perché se stanno belli larghi, vedete che non si danno fastidio a vicenda, loro lavorano per i fatti suoi, addirittura vanno in parallelo, ragazzi, che figata, guardate un po', sono in tandem, scaricano in tandem, adesso voglio vedere, poi, quando vanno a litigare, per chi, wow, è una figata, guardate un po', scaricano in tandem, chi è più veloce? C'è il case che è forse un metro più avanti, ma il Masse Ferguson recupera il rettilineo, e vince, il predestinato vince col Kaiser, alla fine ha recuperato il Masse Ferguson, ragazzi, mi sembra un po' Vanzini, no? Però, vediamo chi scarica per primo, o chi finisce di scaricare per primo, Masse Ferguson o Case? Masse Ferguson mi sembra leggermente avanti, ma Case recupera, siamo a 7, 5, dai, 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 3, 2, 1, e vai, Case ha vinto, no, Masse Ferguson, oh, sono pari, ragazzi, no, ha vinto il Case, perché vedete che il Masse Ferguson è ancora indietro, comunque, adesso, panda le ciance e le cavolate che sto dicendo, però vedete che quando i percorsi sono registrati abbastanza larghi, con un po' di criterio, vedete che loro non si danno fastidio a vicenda e lavorano abbastanza bene. Ok, allora, cosa stavo facendo? Oh, questo, c'ho ancora di cippeppato qui, c'ho ancora di cippeppato, devo accendere i motori, se la fa a riempirlo? Eh, alla grande. Oh, altri 73.000, un altro viaggio lo fa, ok, chi vai? Oh, dove vorresti andare? Vediamo se la lasciamo andare, vediamo cosa fa, dove vuoi andare? Non so cosa vuol fare, ma una cosa del genere qui voleva girarsi, probabilmente. Ok, allora, quello è arrivato all'ingresso nord, aspetta che facciamo uno di questi. Così mettiamo questo a lavoro, che questo ha molta molta più potenza, è anche un po' più grande come tractor. Ok, allora, qua facciamo tutto. Ok, allora, intanto per prima cosa andiamo a modificare questo. Doppia ruota e nuova, pesi ruote sì, ok. Configura, ok. Configurazione modificata, ok. Questo, visto che ci sono, ripariamolo, ok. questo ripara, ok. Configura. Doppia ruota e nuova, sì. No, aspetta, però io ce l'avevo gratis, perché questo me li fa pagare adesso? Che dovrei averceli gratis. Doppia ruota e Michelin? No. Ehi, ce li avevo gratis, perché mi rompi? No, non voglio pagare 18.000. No, adesso sì. Questi erano gratis. Allora, mettiamoli lì sopra. Configura. No, 18.000 ci ho. Cos'è? Mi tiro fuori dal calzino? Io 18.000 euro? Non ce li ho 18.000. Allora, ah no, tu no. Sei quello sbagliato. Allora, tu te ne puoi andare benissimo, visto che ci sei anche al lavaggio? Eh, base lavaggio, via. Ok. Allora, mettiamo questo in position, così questo fa un lavoro molto, molto, molto meglio. Dobbiamo andare a cambiare, però, impostazione. Allora, tiriamo via questa roba qua che non mi serve. Modalità, modalità bunker silo, mi va bene. Offset lo scudo, larghezza lavoro, mettiamola a 6. Così che non, almeno, mi rompe meno per quanto riguarda. Allora, posizione bunker silo, questa direzione bunker silo, perché non vedo il tubo qua? Inversione, in avanti, inversione, ok. In attesa in posizione parcheggio, posizione bersaglio, mettiamolo qua. Ok, ok. Aspetta che è sposto, perché altrimenti quello già è infastidito. Ok, andiamo a vedere quello sul campo 41 che secondo me ha finito e gira a vuoto. O poco gli manca. Così, nel frattempo quello scarica e... Secondo me sì. Allora... Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, io devo mettere uno sul campo 9, quello sul campo 10... Poi... beh, sì, dai, quel po', adesso lo facciamo. Oh, non ho più dato un'occhiata al mio ballaro. non saprei neanche come messo. Allora, raccolgo questo po' d'erba e poi andiamo a vedere ballman cosa fa. Ballman. Ballman. Poi dobbiamo iniziare a concimare. Andiamo di... 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 Di coso? Di... 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 Voglio sfruttare tutta quella... Ok. Allora, tu vai al campo 9. Campo 9. 2, 6. Campo 9. Silo 1. Questo... Questo va bene. Questo va bene. Ok. Mettiamo... 9. P-Camp. Carica. Ok. Ehm... Yes. Ok. Questo è a posto. Andiamo a vedere cosa succede con ballman. Ballman. No, questo... Oh, ballman sta andando a scaricare. Possibile? No, è tornato dallo scarico. Oh, guardate, la prima... La prima impilata me l'ha fatto. Pico. Che è la prima impilata me l'ha fatto. Il problema è la seconda, perché la seconda se la batterà sicuramente per davanti e... Uff, la butterà per terra. Allora, vediamo un po'. Tu vai sul campo 10. Aspetta che devo vedere un po' gli aiutanti come sono messi. Tu ti devo mettere al lavoro. Ehm... Dove inizia? Normalmente da qui? Ehm... Sì. Allora, vediamo. Ehm... Vai. Aruai... No, è iniziato. Ok. Perfetto. 6 metri. Compattazione bunker. Siamo al 37%. Quanto ne abbiamo? Adesso... Fisch... Che ridi? Beh, oh. Sono quasi 2 milioni. Fammi ca... Sono quasi 2 milioni. Fammi ca schifo. Vedete che questo arriva fino in fondo, invece l'altro non ci arrivava. Beh, potenza. E la potenza è potenza, ragazzi. Ehm... Allora, tu sei arrivato così quasi. Sai che ti ricco? Mo te lavo. Mo te lavo. Ok. Tu vieni lavato. Io devo fare anche questa. Ehm... Dobbiamo assegnare un parcheggio. E il tuo parcheggio. Fammi vedere. Dovrebbe essere il 5. Sì, infatti. Allora... Ehm... Parcheggi. Dove sei? Park, park, park. Ho messo qua sopra. Parcheggi... Parcheggi... Capannoni. Parcheggi capannoni. Non è questo. Parcheggi qui. Parcheggi base, stalla. No. Oh, ne ho tantissimi, ragazzi. Parcheggi 3B. Ok. Allora... Tu hai il 5. Ehm... Va bene. Ok. Perfetto. Allora... Ehm... Tu ti vai a parcheggiare. E io nel frattempo inizio. Togliamo via tutti questi percorsi, ragazzi. Mamma mia. Gira la testa. Ok. Allora, questo sta andando sul 9. Ok. Ok. E' venuto dal 9. Perfetto. Tu sei parcheggi... Oiii! Che è successo? Cosa ti è successo? Adesso aspettate, eh. Potenza. Superman. Wow. Ce l'abbiamo fatta? Adesso proprio adesso passa il camion. È assurdo, ragazzi. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta, dai. Okidoki. E questa si sta andando a parcheggiare. Benissimo. Allora, io qua dovevo avere... Eccola lì. X. Diamo una lavata a questi. E poi andiamo a... Iniziare a caricare le balle. Perché abbiamo anche quelli sul campo 15 ancora, no? Dobbiamo tirarle via tutte. Allora, due mie di trebbe. Una sul campo... Sul parcheggio 6. Una sul parcheggio 5. Cos'è qua? Qualcuno ha toccato un qualche cosa? Oh. L'abbiamo anche questo. Oh, c'è una ruota a terra. C'è una ruota sgonfia. C'è una ruota sgonfia. Gli devo dare una gonfiata. Sgonfia, gonfia, sgonfia, gonfia. Ok. Allora, vai. Allora, dov'è il camion che carica le bolts? Allora, aspetta. Tu? Vediamo. Sì, così almeno gli tiriamo via le balle anche davanti a lei. Così non gli dà neanche fastidio. Allora, se non sbaglio, tu stai tornando indietro. Ok. L'avevo parcheggiato. Se non erro... Eccolo qua. Oh. Potrei anche scaricare. Se li prende tutte? Secondo me sì. Ma sì, eh. Ok. Noi possiamo tornare sul campo 16-15 quello che è. A fare un altro bel carico di balle. Dovremmo organizzarci con... Aspettate. Eh, facciamo una cosa. Che mentre lui va, vi faccio vedere un'altra cosa che però faremo nella prossima puntata. Allora, campo... Vai qui. Ok. Allora. Dobbiamo andare in vehicles. In offerta? Oh. Quanti cavallos? 273... 300... Non è male. 126.000... Però io volevo... Volevo andare sui JCB. Solo che JCB... Quando ci vuole? 289. VAC. Perché questi qua sono belli perché hanno una gran velocità su strada e per il lavoro che voglio fare io, perché utilizzare questi per scaricare e caricare le mie titrebbie, quella roba lì, andrebbero da Dio. Comunque, andiamo a vedere una cosa. Io ho questo che non mi fa il concime. Questo mi dovrebbe fare anche il concime. Dai, gira. Il concime adesso quale segno ha? È questo, non dovrebbe essere questo? Sì, concime. Allora, come lo chiamiamo concime? Spandiconcime. Vediamo se il simbolo è quello. Sì, è questo. Ok. Allora, questo è il simbolo per lo spandiconcime. Per il concime. Vediamo una bel spandiconcime. Oh, c'è questo della North Frisage Marsh. Che fa sia calce che 38 tonnellate. No, 38, 300. Sì, 38, no. 38 metri cubi sono 300. 380 tonnellate. No, che cazzo dico? 38 tonnellate. Boh. Vabbè. Configurazione standard. Trellerborg. Michelin. BKT. Questo non sarebbe male. Modica cifra di 156. Altrimenti un bel noleggio per 8000. Non è male. Non è male. Prendiamo questo. E poi ho bisogno anche dell'altro, quello che avevo fatto vedere poco fa. Allora, vediamo. Ce ne dovrebbero essere due. C'è questo. O questo era quello configurabile? No, è quello configurabile. Vediamo. Allora, questo lo possiamo configurare in rimorchio basso. Rimorchio alto. Ah, infatti. Ok. Per il camion. E poi... Sto colore fa cagare comunque. Luce di livello riempimento. Cos'è sta cosa qua? Pico. Colore design. Configurazione ruote fuoristrada. Pango. Cura. Oh, fico. Ok. No, va bene questo. Michelin. BKT. Trellerborg. Ci sono un po' tutti. Modica cifra, 88.000. Ci vogliono 200.000, più o meno, così li compriamo tutti. Il che significa che dobbiamo andare a... Allora, una tonnellata sono 1.000, perché ci sto pensando ancora, eh. Non è mica... Una tonnellata sono 1.000. 3.000 sono 3 tonnellate. 43.000 sono 43 tonnellate. Giusto? O sono rimbambito io? Perché 1.000 sono 3 tonnellate. 1.000 è 1 ton? Sì. 43 tonnellate. Puh. Carica tantissimo. Ok. Ehm... Dove siamo arrivati? Boh, mi ricordo. Questo è finito. Tu... Sai che ti dico? Vatti al... No, no, no. Non andare al lavaggio. Stai lì dove sei perché non puoi... Non puoi essere lavato. Vediamo se quello che scarica... Sta tornando a scaricare. Ah, 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 sali sul veicolo. Vediamo che combina. Non penso che si ferma prima. Io sono sicuro al 100% che li butta a terra. Però... Non vorrei che magari... Scommettiamo. Io dico che li butta a terra. Ma ho vinto! Lo sapevo, però... C'è una cosa che almeno me li metti tutti a fianco qua. Cioè, proprio a fianco no, ma almeno... Perché se lo faccio con... Come facevo prima, con il rimorchio, quello... Con l'autoload... A volte funziona, a volte non funziona, diventi scemo. Però con questo funziona bene, dai. E comunque me li mette qui, io poi arrivo. Se avete altre idee, fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Solo è un altro di Gmarsh. Un salutone. Ciao! Ciao!